...online... Secondo me ci possono essere delle sorprese e comunque è positivo questo metodo di selezione della classe politica This is the water and this is the well Drink full at his hand The horse is the white of the eyes and dark within Not a light, not a light, not a light Ohhhh